Buonasera a tutti, benvenuti al primo incontro del nostro ciclo annuale dedicato all'Antico Egitto. Questa sera Chiara Zanforlini, che collabora con noi da molti anni non solo nell'ambito del ciclo egizio, ma anche per numerose altre iniziative, e che si è collegata con noi da Torino, dove lavora anche nell'ambito del museo egizio, anche se in questo periodo è chiuso per le regole del Covid. E Chiara questa sera ci parlerà dell'oro, dell'argento e delle pietre d'Egitto. Sappiamo tutti che l'Egitto ha lasciato numerosissimi oggetti preziosi ritrovati nelle sepolture, e quindi sarà sicuramente affascinante il viaggio che ci farà fare Chiara tra questi oggetti. Io ringrazio Marina e tutti voi per essere qui presenti, e con questo intervento vorrei approfondire quanto avevamo detto l'anno scorso sull'orificeria egizia, quindi qualcuno magari si ricorderà di quello che abbiamo visto l'anno scorso, e vorrei partire con un materiale che è sicuramente associato all'Egitto, soprattutto grazie ai ritrovamenti della tomba di Tutankhamon, che è l'oro. Diciamo che appunto l'anno scorso mi ero focalizzata un po' anche sugli oggetti di questa tomba di Tutankhamon, quest'anno invece il taglio è un po' diverso, però l'Egitto ha lasciato veramente tantissimi oggetti in oro, non solo quelli molto famosi della tomba di Tutankhamon, ma come è stato ricordato anche prima, nelle tombe, nelle sepolture, noi abbiamo tantissimi oggetti fatti con questo materiale. vedremo che è scelto più che per il valore materiale, per il valore simbolico e religioso, magico, che ha come anche le pietre e come anche l'argento. Innanzitutto, come molti di voi sapranno, l'Egitto è molto ricco di miniere d'oro, però l'argento era ritenuto più prezioso, proprio perché era più raro, e la parola tesoro si traduce con la casa dell'argento. Per quanto riguarda la parola che indica in egiziano antico l'oro, Nebu, il geroglifico che lo rappresenta, secondo gli studi più recenti, si tratterebbe di una collana che è detta Usec, un tipico collare che poi vedremo, che è molto conosciuto, anche così a livello molto basilare, anche se per quanto riguarda l'interpretazione di questo geroglifico, nel passato, specialmente Gardiner, l'aveva disegnato come il crogiolo dove si fonde l'oro. Quindi esistono un po' di interpretazioni diverse, quella della collana Usec è un po' più recente. Vediamo che alcune di queste miniere sono ancora attive oggi, quindi è stato possibile studiarne lo sviluppo nel corso dei millenni e si trovano soprattutto nel sud-est del paese e nel nord della Nubia, quello che in parte oggi è l'Egitto meridionale e Sudan, quindi un altro paese. Gli egizi non distinguevano l'oro sulla base del karate o del colore, ma della provenienza. Quindi si parlava di oro di Copto, di oro di Wawatt o di oro di Cush. E c'erano due fonti disponibili, cioè l'oro alluvionale oppure quello in filoni. Tra l'altro qui ho inserito un'immagine di una parte del celebre papiro delle miniere, che si trova presso il Museo Egizio di Torino, dove abbiamo proprio una vera e propria cartina geografica che indica le miniere dell'Owadi Amamat, quindi nei pressi di Derel Medina, quindi del villaggio degli operai che costruivano le tombe che oggi noi vediamo nella Valle dei Re e della Valle delle Regine. E a fianco avete una cartina dove sono indicate le risorse aurifere, ma anche appunto minerare e di pietra preziose dell'antico Egitto. Come vedete si tratta di materiali piuttosto abbondanti, di cui andremo a parlare anche nel corso del mio intervento. e per quanto riguarda l'oro alluvionale era sicuramente il più facile da trovare perché le pagliuzze sono disperse appunto nei fanghi dell'acqua del fiume e del Nilo e veniva setacciato, come fanno ancora oggi i cercatori moderni, anche vicino a dove abito io nel Torrente Elvo ci sono dei cercatori moderni, cercatori d'oro e infatti questo tipo di oro viene sfruttato sin dal predinastico, quindi almeno dal 3900 a.C. E i filoni invece sono il risultato della degradazione del quarzo aurifero che si erode e si trova specialmente nei filoni di quarzo bianco nelle zone in cui l'agrovacca e il granito, appunto due tipi di rocce, si incontrano. E sappiamo che fin dalle prime dinastie la ricerca dell'oro è un appannaggio reale, quindi abbiamo tutta una serie di personaggi, di cercatori d'oro, minatori, addetti al trasporto dei materiali preziosi che erano detti appunto sementiu, cioè gli uomini con la borsa e infatti anche il geroglifico che li rappresenta è quella proprio di un omino che regge un bastone con una borsa attaccata all'estremità. e sappiamo un po' come era la vita in queste miniere grazie anche a quelli che sono iscrizioni ai graffiti lasciate nei pressi delle miniere e questi graffiti e queste iscrizioni erano fatti da personaggi diversi perché abbiamo minatori, fabbri, gli scrivi che sovraintendevano, sovraintendevano, soldati e operai che sovraintendevano alle varie fasi della lavorazione. Per cui qua potete vedere un'immagine ovviamente un po' più moderna di un cercatore d'oro che setaccia delle pagliuzze e l'oro invece in filoni che si trova soprattutto nei quarzi bianchi come abbiamo visto prima. Mentre per quanto riguarda appunto l'estrazione dell'oro nativo o in filoni il procedimento era ovviamente più complesso perché c'era tutto un procedimento che andava fatto che poi vedremo e vedrete che i lingotti un po' stranamente per noi sono di solito a forma di anello quindi vedrete nelle immagini che vi proporrò questi che sembrano quasi dei braccialetti perché hanno questa forma appunto rotonda ad anello però esistevano anche dei lingotti piatti ad esempio nella tomba di Rekmire che è un contemporaneo di Tutmosi III cioè siamo appunto nel nuovo regno da cui vedremo diverse immagini proprio perché ci documenta molto bene il ciclo dell'oro ci sono dei lingotti piatti che sono abbastanza simili a quelli che sono anche i lingotti detti a pelle di bue che si trovano per esempio per il rame o per altri metalli nel Mediterraneo del tempo qui appunto abbiamo proprio dei nubiani i quali offrono al faraone dei lingotti d'oro come vedete sono questi anelli ed è un disegno, una tempera da una pittura murale della tomba del vicerei della Nubia Hui che proviene appunto da Tebe la Nubia Nub vuol dire oro in egiziano quindi Nubia è proprio un territorio che è ricco d'oro quindi la Nubia ritorna facilmente e come dicevamo l'oro veniva sfruttato soprattutto per iniziativa dei sovrani ma almeno dal tempo di Amenofi III quindi 1403-1365 a.C. circa le miniere del sud del paese e quelle del nord della Nubia passano sotto il controllo del clero di Amon quindi passa sotto un controllo sacerdotale per quanto riguarda le miniere prima venivano sfruttati naturalmente i minerali presenti a cielo aperto ma in seguito si potevano creare delle vere e proprie gallerie sotterranee che potevano essere lunghe parecchie centinaia di metri come dicevamo prima c'erano numerosi operai pagati che lavoravano nelle miniere tuttavia soprattutto in epoca tolemaica i criminali potevano essere inviati a lavorare nelle miniere aurifere e le condizioni di lavoro erano ovviamente molto dure e sono documentate da diversi storici greci di quarto terzo secolo avanti Cristo e per quanto riguarda i filoni prima bisognava scaldare la roccia in modo che questa poi esplodesse e i frammenti auriferi venivano poi ricavati grazie a scalpelli di rame piccozza in pietra poi si portava il tutto all'esterno selezionando il materiale e i frammenti che contenevano l'oro erano in seguito macinati per ottenere la polvere che veniva poi purificata con delle tavole di lavaggio come si fa ancora oggi e vediamo che appunto le iscrizioni ci dicono che quasi tutti gli oggetti d'oro che troviamo nelle tombe hanno una provenienza reale quindi sono o oggetti di sovrani o regali che il faraone ha fatto a determinati personaggi ad esempio nella tomba di Ka che chi conosce il museo di Torino ha ben presente abbiamo diversi oggetti in oro lamina d'oro che sono regali proprio di sovrani e in Egitto il valore dell'oro dipendeva appunto dal peso e non tanto dalla lavorazione sappiamo che oltre al Deben che è 92-93 grammi circa che è l'unità di misura di peso normale esistevano un grande e un piccolo Deben quest'ultimo di 13,28 grammi che era specifico per l'oro come dicevamo l'oro ha un fortissimo valore simbolico legato agli dèi specialmente gli dèi del sole ma anche al sovrano e ad esempio abbiamo una frase estratta dai testi delle piramidi quindi dei documenti che risalgono all'antico regno tra il 3000 e il 2000 avanti Cristo dove si dice che il faraone è una montagna d'oro che rischiara tutto il paese come il sole che sorge e vedremo più avanti anche questa connessione proprio con il sole con i sovrani e con le divinità più in generale infatti si diceva che l'oro era la carne degli dèi in quanto è incorruttibile in quanto l'oro non arrugginisce e di Ra si dice che le sue ossa sono d'argento e la sua carne è d'oro e vedremo poi anche il valore fortemente simbolico che è l'argento nel nuovo regno il sarcofago reale era custodito in una stanza definita spesso la dimora dell'oro e vedremo che la scelta dei materiali delle pietre non aveva quasi mai solo un valore estetico ma c'erano appunto specifiche credenze sui poteri magici che la pietra o il metallo possedeva qui appunto abbiamo un'immagine di una tomba che poi vedremo anche più avanti un disegno che riproduce uno dei rilievi che erano presenti in cui abbiamo gli artigiani intenti a appesare l'oro come si può vedere all'estrema alla mia sinistra artigiani che soffiano dentro il crogiolo per fondere il metallo altri che ricavano delle lamine e poi nel registro inferiore c'è la preparazione di collane tra l'altro si vede il famoso collare Usec che è questo collare fatto da più file di perle infilate insieme ha sempre la mia estrema sinistra e poi qui è curioso perché in questa tomba sembra che ci siano dei nani al lavoro e sono state fatte ipotesi abbastanza fantasiose sulla presenza di questi nani tra cui quella che non sarebbero potuti fuggire velocemente con il materiale prezioso e che quindi sarebbero stati benvenuti nelle officine dove si lavorava loro mentre per quanto riguarda l'argento all'inizio era argento che proveniva soprattutto dall'Aurion quindi dalla Grecia e dalle cicladi però dal secondo millennio cominciò a provenire anche dalla Libia e dal vicino oriente una piccola parte però era anche indigena perché sempre i graffiti che troviamo nei pressi delle miniere parlano di prospettori delle miniere d'argento e uno dei diciamo così tesori più importanti di argenteria in Egitto è il cosiddetto tesoro di Tod dalla località di ritrovamento che risalgono al regno di Amenemeth II e che sono appunto numerose coppe vasi che mostrano anche un'influenza legata proprio al mondo miceneo probabilmente quindi che attestano anche questi legami per quanto riguarda le pietre in Egitto non c'erano quelle che noi consideriamo propriamente pietre preziose come possono essere rubini o diamanti o smeraldi ma troviamo soprattutto cornalina lapislazzolo e turchese e erano scelti proprio per le virtù benefiche che venivano loro attribuite la cornalina è detta R7 è rossa come il sangue quindi ha proprietà vivificanti e proteggeva anche contro i nemici soprattutto nell'aldilà e proveniva dal deserto orientale quindi una pietra che si reperiva localmente il turchese Mefecat proviene dal Sidae ed è simbolo di gioia e di vita nuova quindi sempre propizio per i defunti oltre che per i vi è della pietra di Hathor che è la patrona appunto della regione del Sinai mentre i lapislazzoli che è Bezebej è di provenienza afghana di solito e si diceva che le barbe e i capelli degli dei erano fatti proprio di lapislazzoli e si pensava che il lapislazzoli avesse proprietà benefiche simili a quelle del turchese altre pietre molto usate erano il diasporo rosso Kenemet che proteggeva sempre dai nemici il fespato verde Nekemet che era un simbolo di resurrezione la malachite verde entrambi il verde in Egitto è comunque legato anche ad Osiride proprio perché Osiride è la pelle verde in quanto un dio che è rinato legato anche alla vegetazione il calcedonio striato l'alabastro l'ossidiano il cristallo di rocca qua potete vedere appunto tre scarabei che sono appunto tra gli amuleti sicuramente più noti che incontriamo appunto in Egitto legati a che è il dio del sole al mattino che sono stati realizzati con appunto lapislazzoli e altri materiali proteggiati che possiamo vedere appunto qui per quanto riguarda gli artigiani era un lavoro fortemente gerarchizzato perché si svolgeva presso i templi e i palazzi reali quindi c'erano i visir i direttori del tesoro e delle botteghe reali capi degli scultori del re abbiamo tutta una serie di titoli di personaggi che erano incaricati proprio di occuparsi di sovrintendere il lavoro degli artigiani e abbiamo grazie alle tombe di questi personaggi le varie fasi di lavorazione di pietre e metalli i lavoratori dell'oro erano genericamente chiamati nebu quindi con il nome stesso dell'oro e come avviene spesso in Egitto il mestiere era trasmesso di padre in figlio abbiamo anche un'altra parola che è nechedi che invece è più difficile da interpretare perché solitamente è tradotta con gioielliere ma poteva indicare anche coloro che trasformavano le pietre quindi anche gli artigiani addetti alla trasformazione delle pietre pregiate qui appunto abbiamo un'immagine invece una fotografia della tomba di Mereru Cassacara che è un visire appunto vissuto nella stessa dinastia quindi durante l'antico regno quella che abbiamo già visto in precedenza nel disegno qui è un po' più difficile da individuare rispetto al disegno che abbiamo visto prima però è l'immagine dove c'erano i lavoratori nani che potete vedere nella fascia in basso e dove abbiamo appunto le varie fasi della lavorazione dell'oro dalla pesatura alla fonditura alla realizzazione poi degli oggetti qui abbiamo invece delle immagini che provengono appunto da tombe di diciottesima dinastia quindi di nuovo regno in particolare dalla tomba di Reqmi Re e poi appunto invece anche questi altri quest'altra tomba quella di Nebamo nei Puchi sempre della diciottesima dinastia in particolare si può vedere un artigiano che sta fondendo l'oro che tiene anche delle pinze per afferrare appunto poi il metallo e farlo fondere che soffia in un cannello proprio per permettere all'ossigeno di alimentare il fuoco e poi in basso è abbastanza interessante perché sempre nella tomba di questo Reqmi Re si vede un artigiano che è intento a infilare delle perle per fare una collana usec che è quella che potete vedere anche pronta in basso sempre alla mia sinistra e poi c'è invece un altro artigiano che usa un trapano a triplo archetto per forare una lamina di metallo sempre di metallo prezioso mentre nella tomba di Nebamon si vede anche qua la pesatura dell'oro tra l'altro qua non si vede benissimo però come vedremo più avanti i pesi che venivano usati sono spesso a forma di animale in questo caso la testa di un toro abbiamo gli artigiani che producono vari amuleti che si vedono anche appesi alle pareti abbiamo il nodo della Dea Iside il nodo TIT il pilastro GED che è la colonna vertebrale di Osiride altri nella fascia inferiore che portano questi amuleti e di nuovo un collare usec abbiamo poi altri artigiani che stanno lavorando le lamine d'oro uno che sta probabilmente pulendo raffinando quella che è la superficie di un oggetto in oro e un altro che sta invece scolpendo quello che è il appunto ureo cioè il serpente che protegge sulla fronte di una sfinge sempre in oro quindi abbiamo immagini abbastanza dettagliate di quello che era l'attività di questi personaggi e un'altra tomba abbiamo sempre un disegno che riproduce la lavorazione dell'oro e si può vedere sempre la fonditura la pesatura il fatto che vengono tratte delle lamine e che poi vengono appunto battute e lavorate sappiamo che esistevano dei fabbricanti di perle che venivano chiamati i ru ucebet e l'assemblatore di collane cioè i seti nub le perle di vetro di faianz erano invece realizzate artigiani che si venivano detti in baba e sappiamo che nonostante i materiali che lavoravano questi artigiani fossero molto pregiati non sono immuni dall'ironia dell'autore della cosiddetta satira dei mestieri che appunto colpisce tutti i lavoratori manuali questo appunto è abbastanza tipico dell'Egitto qua abbiamo l'ostra con la satira dei mestieri che proviene appunto sempre dal museo egizio è un testo dove si loda il mestiere dello scriba e quindi per contrasto vengono visti in maniera negativa tutte le altre attività specialmente appunto le attività manuali tra cui anche quella dei lavoratori dell'oro e delle pietre preziose si dice che stanno nel fango come i cucodrilli che hanno le mani screpolate e così via si sottolinea appunto un po' tutti gli aspetti negativi del lavoro manuale qua possiamo vedere la pesatura appunto dei lingotti da tombe di antico e nuovo regno insieme a diversi pesi qua si può vedere più dettagliatamente il lingotto fatto a forma di anello e il peso fatto a forma testa di vue che abbiamo osservato prima e poi appunto la pesatura dell'oro con la presenza sempre degli scribi che si possono vedere sia nell'antico sia nel nuovo regno con la loro tavoletta in mano e lo stilo per prendere nota di quello che è l'oro che entra e che esce all'interno della bottega e come vedete i pesi sono spesso iscritti o col nome del sovrano o fatti a forma di animale come potete vedere a destra per quanto riguarda la tomba di rec mire che ci dà molte informazioni questo personaggio vissuto sotto il nosi terzo abbiamo l'oro che arriva sotto varie forme cioè lingotti anelli e polvere e vediamo ad esempio un artigiano che fonde l'oro soffiando su una fornace mentre un altro cuoce su un fornello un frammento che servirà a produrre foglie d'oro che giacciono accanto a lui protette da pelli animali e le foglie venivano realizzate battendo l'oro con un grosso ciotolo su di un incudine erano martelli abbastanza primitivi nella stessa tomba se ricordate abbiamo visto anche un artigiano che perfora delle pietre con un trapano a triplo archetto mentre un collega infila le perle di un grande collare usec come abbiamo visto prima e come possiamo vedere qui nella tomba di rec mire le varie fasi della lavorazione dell'oro qui appunto abbiamo la preparazione di collane e la foratura delle pietre o di una lamina d'oro non è chiarissimo nella tomba di rec mire insieme ad altre fasi appunto come le fornaci e la realizzazione delle foglie d'oro mentre da altre tombe conosciamo quelle che erano le fasi di produzione delle pietre ad esempio dalla cappella di sobe kotep abbiamo la produzione di una collana di cornalina mentre una attestazione abbastanza particolare è quella che abbiamo nella tomba detta dei due scultori dove si vedono artigiani che fabbricano dei pettorali a forma di scarabeo alato e per quanto riguarda l'estrazione di pietre come l'agata e la cornalina si sceglievano i ciottoli nelle miniere e poi venivano di solito seccati sul fuoco e la cornalina in particolare veniva scaldata sia per migliorarne il colore sia per migliorarne l'attitudine al taglio la pietra veniva sbozzata grossolanamente mentre poi si passava a operazioni più raffinate e sappiamo che la cornalina restava circa 24-48 ore sotto la cenere calda sia appunto per renderla più tenera al taglio sia per migliorarne il colore e farlo diventare un rosso più vivo qua potete vedere vari esempi di cornalina una più arancione e l'altra più rossa e poi agata che era conosciuta appunto anche in Egitto e che ha colori molto belli e molto differenti a seconda del filone gli utensili di cui accennavamo prima erano molto semplici le pietre arrotondate i ciottoli fluviali erano martelli che però a volte erano invece martelli più simili al nostro con un manico e una testa di calcareo di bronzo mentre le incudini erano in legno o in pietra a volte appunto protette da pelli di animali il rame e il bronzo era usato per pinzette e ceselli mentre i crogioli e gli stampi erano in pietra soprattutto calcare gabbro e steatite la politura si poteva fare con sabbia oppure con utensili di quarzite selge selce agata oppure brunitori in osso o di pietra dura e sappiamo che si produceva anche un oro rosa che veniva ottenuto con il rame oppure la superficie metallica poteva essere anerita per mettere in risalto le pietre durante il terzo periodo intermedio quindi intorno al 1000 avanti cristo abbiamo l'uso della tecnica cera persa che viene applicata anche per i metalli preziosi e ad esempio abbiamo alcune statuette di divinità che sono realizzate proprio in questo modo martellando ovviamente la superficie dell'oro e dell'argento si ottenevano le foglie d'oro o d'argento mentre per quanto riguarda la tecnica dello smalto culasonnet è attestato a meroe quindi nel sud anattuale ma non in Egitto si ricavavano inoltre dei fili che potevano essere utilizzati per la filigrana e le decorazioni potevano essere a sbalzo a stampo o a cesello qua possiamo vedere appunto alcuni gioielli egizi realizzati con tecniche diverse come potete vedere e abbiamo soprattutto i bracciali di cui parleremo un pendente con il motivo appunto dei falchi legati al dioros e al diorà lo scarabeo alato naturalmente l'immagine della dea iside su questo bracciale con il decoro a filigrana e l'uso di turchese lapislazzoli mentre per quanto riguarda le saldature di solido si utilizzava il natron mescolato con oro argento o rame le saldature colloidali erano invece ovviamente fatte con colla mescolandola appunto con una polvere ricca di rame che è solitamente ricavata dalla malachiti per gli oggetti di grande dimensione come ad esempio le maschere si potevano tenere insieme le varie parti con dei chiodini a doppia testa piatta mentre sabbia fine e lubrificanti permettevano la pulitura finale la filigrana e la granulazione sono importanti durante sono state appunto importate durante il Medio Regno come tecniche ed erano molto in voga sotto i ramessidi ma declinano appunto durante il terzo periodo intermedio quindi verso il 1000 avanti Cristo qua possiamo vedere un bracciale con decoro a filigrana che proviene dalla tomba di Tutankhamon e accanto invece un anello che è lavorato a granulazione per quanto riguarda le tipologie di gioielli abbiamo ovviamente i diademi che sono ispirati alle corone di foglie di fiori naturali sappiamo che esistevano già nell'antico regno come ad esempio nella statua della principessa Neferet oggi è il museo del Cairo che porta un diadema in argento con delle rosette incastonate e le principesse poi di Laum o le concubine reali di Tutmosi III portavano ugualmente dei diademi e nel caso delle mogli di Tutmosi III erano decorate con teste di gazzella che si pensa fossero proprio un po' l'emblema della loro condizione di spose reali sappiamo anche che dei tubetti in oro o dei fili o altre decorazioni potevano adornare le trecce e le ciocche delle parrucche dei personaggi di alto rango qua si può vedere appunto un diadema in argento decorato con questo motivo a fiocco un altro appunto diadema questa volta in oro delle principesse di Laum una ricostruzione di un diadema con l'ureo appunto e le rosette e queste decorazioni a spirale per le ciocche di capelli a cui accennavamo prima mentre alla mia sinistra in basso abbiamo uno dei diademi di una delle mogli di Tutmosi III con il motivo appunto a Rosetta ma anche con le famose teste di Gazzella gli orecchini invece arrivano abbastanza non subito nella storia dell'antico Egitto probabilmente importati dal vicino oriente durante il secondo periodo intermedio quindi 1600 avanti Cristo circa ed erano a pannaggio soprattutto delle donne e dei bambini però potevano essere portati anche dagli uomini e abbiamo sia semplici cerchietti in oro sia dei pendenti più elaborati qui ho proposto varie forme di orecchini alcuni appunto con la testa di ariete come potete vedere legati al dioamon poi abbiamo anche gli orecchini di seti secondo che sono molto elaborati come vedete con il nome del re e questi pendenti sferici un disegno da una parete tombale dove abbiamo una donna che indossa diadema orecchini e collane alcuni esempi di orecchini di varia epoca in materiali diversi mentre la radiografia che vedete è quella della tomba della mummia dell'architetto K la cui tomba è conservata a Torino che come potete vedere aveva una collana molto importante e anche due paie di orecchini anche questi rotondi abbastanza pesanti abbastanza voluminosi come potete vedere per quanto riguarda le collane e i pendenti erano ampiamente diffusi sin dal predinastico e si sviluppano soprattutto nel Medio Regno e abbiamo una grande perfezione tecnica per quanto riguarda gli oggetti di questo periodo e il collare Usec che è noto sin dall'Antico Regno è sicuramente il tipo più popolare mentre durante la Diciottesima Dinastia le collane imitavano spesso le ghirlande di frutti e di fiori e le donne potevano portare anche delle cinture che erano adorne di conchiglie di cauri teste di leopardi o pesci con valore magico e benaugurante proprio perché proteggevano le aree legate poi alla gravidanza alla generazione e anche ad esempio la moglie di K merita una cintura che come è stato visto grazie alle radiografie che sono realizzate state realizzate su queste mumie che sono ancora bendate conservate appunto al Museo Egizio di Torino qua potete vedere vari esempi di collane da quelle più semplici in pasta di vetro ai pendenti più elaborati fatti appunto con le pietre pregiate di cui abbiamo parlato prima e anche il famoso collare Usec con teste di falco realizzate in oro per quanto riguarda gli anelli quelli che risalgono alle fasi più antiche il periodo tinita e l'antico regno sono abbastanza rari e cominciano come diffusione presso il medio regno mentre verso il 1990 avanti Cristo circa con la dodicesima dinastia abbiamo l'anello con scarabeo incastonato mentre appunto questo sarà un gioiello molto conosciuto in tutto il bacino del Mediterraneo anche perché i fenici molto spesso lo esportano e quindi sono stati trovati anelli di questo tipo anche in tombe ad esempio della Sicilia meridionale o della Sicilia o dell'Italia meridionale quindi diventano un gioiello abbastanza comune in tutto il Mediterraneo e sappiamo che appunto i gioielli durante l'epoca mariana quindi nuovo regno l'epoca di Akhenaton e l'epoca tarda furono un gioiello molto comune come potete vedere qua abbiamo vari tipi di anello tra cui anche gli anelli a sigillo e quello appunto con scarabeo ma a volte troviamo anche altri animali che possono avere un legame con divinità benauguranti come ad esempio questo topolino che potete vedere qui in basso sappiamo che i bracciali erano diffusi sin dal predinastico ovviamente in epoca preistorica erano soprattutto ricavati da conchiglio zanne di animali però sappiamo anche che i bracciali soprattutto sempre a partire dalla diciottesima dinastia potevano essere portati nella parte superiore del braccio come si vede ad esempio di nuovo nella tomba dell'architetto Ca Torino e le donne potevano portare delle cavigliere che sono abbastanza diverse che sono abbastanza difficili scusate da distinguere a volte dai bracciali quelli rigidi hanno un'origine predinastica mentre quelli a cerniera sono più tipici del nuovo regno come potete vedere in questi esempi tra cui in fondo a sinistra quello con le due teste d'oca che proviene dalla tomba di Tutankhamon mentre quello con i cavalli faceva parte insomma del corredo di Ramessa II e per concludere volevo sottolineare come l'Egittomania abbia portato alla produzione di numerosi gioielli ispirati durante il periodo dell'Art Nouveau all'Egitto soprattutto delle case come Cartier hanno prodotto gioielli molto belli che si ispirano proprio a quella che era l'arte egizia e gioielli soprattutto emersi durante gli scavi per la per la tomba di Tutankhamon grazie grazie Chiara come diceva all'inizio Feliciano se qualcuno vuol fare delle domande lo scriva nella chat così Feliciano potrà abilitare l'audio facendo la tua ricerca sui gioielli sui gioielli Chiara al di là dei metalli e delle pietre preziose o semipreziose hai avuto hai avuto modo anche di approfondire quell'aspetto legato all'uso della faience o della steatite in vetriata per produrre elementi per i gioielli non mi sono tanto occupata della faience o della steatite nella mia ricerca però è un ambito che pensavo di sviluppare in seguito quindi di tornarci perché ho letto alcune cose ma non mi sono concentrata su questo tipo di materiale per il momento C'è Valentina Tusa che vuol fare una domanda prego Chiede forse cosa possiamo dire sull'estrazione del natron Il natron era ricavato soprattutto nel deserto quindi c'erano questi laghi o comunque questi affioramenti dove si poteva trovare il natron che è usato soprattutto come appunto elemento per le saldature diciamo che per quanto riguarda i gioielli è usato soprattutto per quello il natron è conosciuto molto di più per l'uso che se ne fa durante l'imbalsamazione però appunto nel deserto si potevano trovare anche questi affioramenti di questo materiale che è sostanzialmente un bicarbonato di sodio se pensate alla sigla del sodio Na deriva appunto da natron e quindi veniva utilizzato ed estratto un po' come si fa con i sali nei laghi salati anche per produrre questo tipo di saldature nei gioielli oltre che per l'imbalsamazione Anna Lisa ha chiesto di parlare di fare una domanda prego volevo chiedere se esistevano dei bracciali che potevano aver attaccato una sorta di piccolo contenitore è una domanda è una domanda un po' no 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 però al momento io non ne ho trovati ok non ne ho trovati nella mia per il momento per le cose che ho ricercato io al momento non le ho trovati forse hai in mente tipo quelli che si trovano più avanti per i longobardi che avevano dei contenitori attaccati non so perché io sto studiando una tomba nel Sulcis in Sardegna che ha all'interno delle è una tomba punica e ha all'interno delle delle pitture o comunque dei richiami che sono chiaramente egizi e appunto c'è un la rifiutazione di un uomo che ha attaccato al polso una sorta che sembrerebbe un bracciale però con qualcos'altro di attaccato che sembra quasi un bicchierino piccolo no ho trovato ero capitato di vederlo quello no quello no ho trovato degli elementi attaccati ma tipo appunto le teste di anatro i cavalli non contenitori quindi al momento no mi spiace sì beh tenga presente che queste sono cose molto tarde rispetto a quello che ha guardato lei perché parliamo di di quinto quarto secolo avanti Cristo quindi siamo molto più avanti comunque niente volevo solo sapere grazie se posso intervenire potrebbero essere esistiti però perché ci sono delle delle cinture che sono lavorate con delle teste di pantera cave all'interno delle quali ad esempio c'erano delle perline d'oro che con il movimento suonavano quindi forse qualcosa di di più difficile magari ci sarà che fatto sì grazie c'è Olivia che vorrebbe fare una domanda leggo io la domanda il clero di Amon aveva controllo delle miniere d'oro anche durante il periodo amardiano no perché appunto il fatto di Achenaton è stato di riprendersi poi anche quello che era il controllo delle miniere quindi è più limitato in quel periodo direi che ringraziamo Chiara grazie a voi per questa preziosissima conferenza possiamo dirlo tranquillamente grazie visto l'argomento ma anche visto la quantità di notizie e informazioni che ci hai dato ricordo a chi è in collegamento che questa è la prima di una serie di quattro conferenze venerdì prossimo ci sarò io con l'arte del predinastico il venerdì successivo il 19 marzo ci sarà Andrea di Tussi che parlerà di Abaton file bide e i misteri di Iside e Osiride e venerdì 26 marzo invece Susanna Moser con oltre il faro l'archeologia di Alessandria tramito in realtà grazie e buonasera grazie mille buonasera ciao Chiara e grazie grazie a voi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.